we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi andiamo oggi a fare le sfide della settimana numero 7 di fortnite la settimana più importante della stagione numero 4 la settimana che finalmente regalerà a tutti coloro che hanno completato le sfide settimanali in tutte le settimane il tanto atteso spacca tutto ragazzi quella skin leggendaria che tanto stiamo aspettando allora oggi ragazzi andiamo a vedere la stella segreta che si trova seguendo la mappa di parco pacifico ragazzi quella che c'è la mi raccomando ragazzi adesso qualche secondo che parte 7 secondi per la precisione e scenderemo la stella segreta ragazzi si trova su questa montagna ragazzi come vedete andiamo a fare un affronto con la mappa e vediamo che stava semplicemente indicando pinnacoli pendenti quindi andiamo giù ragazzi di prepotenza e vi faccio vedere la location esatta di dove sarà la stella mi raccomando ragazzi fate tutte le missioni sblocchiamo ragazzi questo spacca tutto non abbiamo idea ancora di come sia sono usciti o ragazzi sono usciti io ho fatto il video quello leak ho fatto il video di quello che sembra essere ufficiale ma sai finché non lo vedi non ne sei sicuro andiamo ragazzi ci buttiamo alla montagna ci buttiamo alla montagna la state vedendo lì davanti a me raga la state vedendo lì davanti a me questa qua piccolina raga eccoci arrivati praticamente molto semplice in mezzo a due pini ragazzi questa forma di triangolo se vogliamo più o meno in mezzo ai due pini ragazzi noi ci atterriamo senza problemi ed ecco ragazzi che la stella segreta apparirà magicamente proprio qui davanti a noi ragazzi io vi ringrazio veramente tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale fate iscrivetevi i vostri amici noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale